E continuo a cucinare, mi piace andare al mercato, mi piace cucinare a casa per me e per gli amici e considero la professione di cuoco una delle cose più belle che si possano fare per sé e per gli altri perché è un dono, è un dono d'amore. Apprezzo molto questo mestiere, questa professione, questa scienza perché è molto difficile, molto faticosa, molto complicata ed è una scienza che diventa dono, che diventa gioia, che diventa regalo perché loro sono dei fisici, perché cucinare è mettere insieme le cose della fisica ma poi questo diventa un dono, un dono che fa felice il palato, l'occhio, il suono, l'orecchio fa felice il corpo, fa felice il metabolismo quindi è un mestiere straordinario, un mestiere bellissimo e sono stato felice anche se indirettamente facendo tornare in presenza tutti i dipendenti pubblici non solo per migliorare la qualità dei servizi della pubblica amministrazione ma perché questa presenza ha ripopolato le nostre città.